Venerdì 10 gennaio 2014 a Pezzolo, Valle Uzzone, i militari della stazione di Corte Emilia unitamente ai carabinieri del nucleo operativo della compagnia dei Caromontenotte hanno tratto in arresto per detenzione illegale di armi comuni da sparo, ricettazione e detenzione abusiva di armi, un 44enne pregiudicato, coniugato e disoccupato. Nell'appartamento dell'uomo gli agenti hanno identificato oltre all'indiziato anche la moglie e le figlie rispettivamente di 19 e 14 anni e due figli maschi di 15 e di 5 anni nonché il convivente della figlia maggiore della coppia. I militari durante la perquisizione hanno rinvenuto numerose armi da sparo con relative munizioni e armi bianche, pugnali e baionette. Tutte erano state nascoste in casa ma sempre facilmente reperibili anche per i figli più piccoli. Lo dimostra la pistola semi-automatica con colpo in canna rinvenuta dai militari sotto i cuscini del divano. Tutte le armi erano detenute illegalmente poiché l'uomo il risultato sprovvisto di porto d'armi ne aveva mai sporto denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. Le armi sono state sequestrate mentre l'uomo è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Asti e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Saluzzo sono riusciti ad individuare e denunciare alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino, l'autore del danneggiamento a seguito di incendio della facciata metallica dell'edificio che ospita la sede della Coldiretti zonale. Si tratta di un diciassettenne saluzzese residente in un comune limitrofo il quale la notte del 1 novembre 2013 ha esploso alcuni petardi nel parcheggio del supermercato antistante dell'edificio ed alcuni all'interno del cassonetto preposto alla raccolta della carta. Il raccoglitore incendiato si non solo ha danneggiato irrimediabilmente la parete esterna dello stabile rivestita con una pellicola metallica di alluminio, ma anche alcuni veicoli parcheggiati sono stati rovinati dalle gocce incandescenti cadute sulla carrozzeria. Il giovane individuato dai militari dopo una breve ma capillare attività investigativa locale ha ammesso le proprie responsabilità anche in merito all'allagamento e al danneggiamento notturno dell'impianto elettrico causato nel gelaio 2013 del parcheggio sotterraneo del supermercato sottostante il centro commerciale. I carabinieri di Brano hanno sequestrato un'area di 5.150 metri quadri a debilità di scarica abusiva in via Racconigi a Sommariva del Bosco. I militari della Benemerita hanno rinvenuto diverso materiale abbandonato, macerie varie, resti di ondulati in leaf fibro cemento ethernet, vecchie porte e finestre, un'avventura fiat multipla, plastiche varie. Le attività di indagine sono attualmente volte ad acclarare le responsabilità dell'abbandono e la proprietà del terreno. Dopo le molte polemiche dei giorni scorsi, l'ANAS ha finalmente comunicato che è riaperto al traffico il colle della Maddalena sulla stradale statale 21, in provincia di Cuneo. Fin da lunedì gli uomini e i mezzi dell'ANAS hanno ripreso le attività di sgombero neve dopo che le condizioni meteo e i sopralluoghi effettuati, nonché il parere della Commissione Locale Valanghe, hanno verificato l'assenza di pericoli di distacchi di masse nevose, come invece era emerso nei giorni scorsi. Il personale dell'ANAS è presente sul posto per assicurare il ripristino della viabilità in piena sicurezza e per mitigare i rischi per gli utenti. Dal prossimo settembre le scuole della provincia di Cuneo rimarranno aperte fino a venerdì. Niente sabato dunque e sia la settimana corta. L'ha decisa la provincia di Cuneo per far fronte alla pressante situazione economica. Non ci sarebbero fondi sufficienti a garantire i trasporti degli studenti anche di sabato e inoltre così facendo si risparmierà anche sul riscaldamento degli istituti. Chissà come la prenderanno le centinaia di studenti delle scuole superiori che erano scesi in piazza e avevano organizzato cortei per manifestare il loro dissenso fino ad ottenere la possibilità di esprimere il proprio parere tramite il referendum interno agli istituti, in cui peraltro provarsi il no alla cosiddetta settimana corta. I referendum non sono mai stati approvati dalla provincia poiché le ente osservano i dirigenti, non ne ha titolo. A preso il via nel periodo natalizio si protrarrà fino a fine gennaio la nuova campagna promozionale che l'ente camerale cunese in collaborazione con gli attori di Cuneo Italiana Elps sostiene per incentivare e rilanciare i voli della neve, dall'aeroporto di Cagliari Elmas a quello di Le Alpi del Mare di Cuneo e le Valdigi. Dalla discesa al fondo, dallo snowboard alle ciastre, dallo sci alpinismo alle cascate di ghiaccio. Queste le discipline sperimentabili nel cunese dove confortevoli e accoglienti strutture ricettive sono in grado di far sentire l'ospite a casa anche grazie ai piatti tipici della tradizione della cucina piemontese, con centri benessere e spa dove concludere in relax la giornata sportiva. E ancora perché lo sci intende unire la cultura, città d'arte degne di rilievo in numerosi manieri disseminati sul territorio della Granda. Per promuovere il nostro grande territorio si è optato per condurre una campagna pubblicitaria rivolta a carta stampata, radio, televisione e web.